Bene amici del Vivati Tech Channel, benvenuti e bentrovati a questa nuova recensione tecnologica, a questa duplice recensione tecnologica. Io vi ricordo come sempre che i miei video sono fruibili in 4K, quindi vi invito ad utilizzare questa risoluzione se su grandi schermi o comunque dotati di una buona connessione perché, ripeto, tutti i miei contenuti sono fruibili in 4K. Ma partiamo dal primo oggetto della nostra recensione. Il primo oggetto della nostra recensione è questo caricatore, questo caricabatterie Ioneus da 33W, dotato di ben, come voi vedete, 4 porti USB. In particolare una di queste, vediamo se la telecamera riesce a mettere a fuoco, è dotata di Qualcomm Quick Charge 3.0, che è quella superiore evidenziata dal colore arancione, mentre le tre evidenziate in verde sono prese con uscita a 3.1A, quindi carica molto rapida anche con queste tre prese, mentre invece la presa in arancio è dotata appunto di Qualcomm Quick Charge 3.0. Quindi veramente un ottimo oggetto quando si viaggia, ad esempio, come vi mostro nella foto che ora vedrete in sovraimpressione, qui avevo collegato diversi caricabatterie, in particolare il caricabatterie per due cellulari, per un orologio, per una torcia LED con batteria litio ricaricabile, quindi avevo collegato veramente molte cose, quindi veramente molto utile quando si viaggia. La potenza è di 33W per questo caricatore Ioneus, quindi veramente molto comodo per quando si viaggia per alimentare tutti i vostri dispositivi. Ripeto, una presa Qualcomm Quick Charge 3.0 e le altre tre prese da 3.1A, quindi molto rapidi anche queste in verde. Passiamo ora invece a questo. Questo cos'è? Questo è il vetro, che sarà sia un vetro frontale che un vetro per la fotocamera posteriore per il mio smartphone Xiaomi 11T Pro. Non vedo l'ora di installare questo vetro, smartphone dotato di un comparto fotocamera, tra l'altro è veramente eccezionale, farò probabilmente un video dedicato, infatti il comparto fotocamera è veramente stupendo, registra video fino in 8K a 30fps oppure 4K a 60fps, HDR 10+, con codifica H.264 oppure H.265, stabilizzatore doppio sia ottico che digitale, foto fino a 108 megapixel, veramente uno spettacolo di smartphone con un comparto fotocamera veramente grandioso, cattura dei colori veramente stupendi, l'ho potuto provare in montagna e veramente cattura dei colori veramente ottimi. Ma andiamo ora invece ad aprire questo pacco, perché sarà appunto il vetro, ovviamente rimosso in un indirizzo di casa, però vi ha ragioni. Andiamo ad aprire questo pacco ed eccolo qua, il vetro cool, glass tempered 9H, screen protector. Andiamo quindi ora ad aprire la confezione e vediamo cosa contiene. Rimuoviamo anche questo articolo, questa confezione Amazon. Andiamo quindi ad aprire il nostro pacco e vediamo cosa contiene. Eccolo qui. Abbiamo tutti gli accessori per appunto lo screen protector e eccolo qua, abbiamo tre protezioni, tre vetri temperati per la nostra fotocamera. Andiamo ad aprirne uno, che tanto è quello che ci servirà. Eccolo qua, la protezione, il vetro temperato per il comparto fotocamera. come voi vedete. Eccolo qua, camera tempered glass screen protector. Andremo poi successivamente a appunto montarlo. Questi sono gli altri due, questo invece è la protezione appunto, il vetro temperato per la protezione della parte anteriore dello smartphone. Eccolo qua. Molto ben fatto, sembra, con anche i bordi leggermente stondati. Andiamo ora a vedere cosa contengono gli accessori. Infatti una parte sempre molto importante è quella appunto degli accessori. Andiamo a vedere cosa contiene questo busto di accessori. Eccola qua. Abbiamo la pezzolina per andare a pulire il panno, quindi per andare a pulire, anzi due panni per andare a pulire il nostro smartphone. Abbiamo poi il panno, diciamo, LCD screen cleaning closed, remove dust, sterilization, addition to oil, quick drying. Quindi il panno bagnato per andare a pulire il nostro smartphone. E un set di tre panni bagnati. Infatti abbiamo tre screen protector, quindi ci ha fornito un set di tre panni bagnati. E abbiamo poi anche le dime per andare ad installare correttamente il vetro. Queste sono addirittura cinque, quindi addirittura due in più di quelle che ci servono. Ma io sono solito metterli a mani nude, infatti ho una gran precisione e riesco tranquillamente a mani nude ad installare questo tipo di pellicole. Come ricordavo anche in un video precedente, ora non sto qua a rifarvi il video che ho già fatto, che troverete nella scheda finale allegata a questo video. Quindi non sto a rifare il video, ma molto importante, il video in cui vi mostravo appunto come applicare queste pellicole in vetro sembrato. Quindi non sto qua a rifare il video, ma cosa molto importante è sempre la pulizia. Infatti bisogna sempre prima di applicare queste pellicole pulirsi molto 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 bene le mani. Pulire molto bene lo smartphone, quindi sia con il panno umido, quindi passarlo tutto bene con il panno umido, dopodiché andare a pulirlo con il panno questo asciutto per andare ad asciugarlo e da togliere tutti i vari residui di polvere. Se dovesse essere rimasta ancora della polvere con questo particolare adesivo si va a rimuovere appunto la polvere in eccesso, quindi con questo dust absorber si va a rimuovere appunto quella che è la polvere in eccesso, e dopodiché si va ad applicare la pellicola. Quindi cosa molto molto importante, come vi dicevo appunto per applicare queste pellicole, è la pulizia, quindi lavarsi molto molto bene le mani, asciugarsene molto bene, non con dello scottex o con qualcosa che lasci dei residui appunto sulle mani. Andrà a pulire molto bene lo schermo del telefono e anche le fotocamere in questo caso con questo panno appunto bagnato, quindi con questo screen protector, LCD screen, cleaning, closed, wet. Infatti ne sono presenti appunto tre perché tre sono i set di vetri per la fotocamera posteriore e per il vetro anteriore, ecco che mette a fuoco, e dopodiché andare ad asciugare molto bene con uno di questi panni, che in questo caso è presente in numero di due, quindi ne sono presenti due, infatti è possibile riutilizzarli, e andare a rimuovere l'eventuale polvere in eccesso proprio con questo adesivo che qua vi mostro. Dopodiché attraverso queste dime, quindi queste tre dime che vedete qui, è possibile andare ad applicare la pellicola in vetro temprato in maniera precisa e perfetta, ma vi ripeto io riesco a farlo anche senza dima a mani nude perché ho una precisione tale che mi permette appunto di installare queste pellicole in vetro temprato direttamente diciamo a mani nude e a occhio, un po' come si faceva ai vecchi tempi quando non erano ancora presenti nelle confezioni di queste pellicole, che all'epoca non erano nemmeno in vetro, queste tre appunto dime. Altra cosa importante che volevo dirvi prima di lasciarvi, appunto non rifaccio il video precedente proprio perché l'ho già fatto e l'ho trovato nelle schede al termine di questo video, altra cosa che volevo dirvi prima di concludere questo video, che mi arriverà a breve, il SanDisk Extreme SSD NVMe nel taglio da 1TB, portatile, dotato di USB-C, velocità di lettura fino a 1050MB per secondo e scrittura fino a 1000MB per secondo, resistente e impermeabile IP55, appunto nel taglio da 1TB. Quindi a breve vi farò anche la recensione di questo prodotto che è in procinto di arrivare, quindi aspettatevi anche una recensione di questo prodotto. Quindi io direi che per questo video è tutto, vi ho parlato dei due prodotti di cui volevo parlarvi oggi, quindi del caricatore con le quattro porte USB su reto da 33W per appunto i viaggi, o comunque anche da tenere in casa, molto veramente molto comodo, con il Qualcomm Quick Charge 3.0, e di questo set di vetri, sia per la parte anteriore che posteriore del mio smartphone. Infatti un vetro andrà a ricoprire appunto la parte anteriore, mentre l'altro vetro andrà a ricoprire la parte del comparto fotocamere, con queste tre fotocamere, guardate anche come sono grandi, del mio Xiaomi 11T Pro. Quindi io direi che per questo video è tutto, io vi do appuntamento ad un prossimo video, un saluto a tutti dal Bibatti Tech Channel. Ciao!